Buongiorno a tutte e tutti, sono qui per parlarvi di Polis Aperta. Polis Aperta è l'unica associazione italiana che riunisce gli appartenenti alle forze di polizia e forze armate LGBT. Polis Aperta è nata nel 2005. Lo scopo principale di Polis Aperta è quella di costituirsi come ponte, come collegamento fra la comunità LGBT italiana e le forze di polizia e le forze armate.